Novità in arrivo per quanto riguarda la sosta nel comune di Nago Torbole. Il civico consesso che si è riunito ieri ha approvato la modifica della disciplina delle aree destinate a parcheggio pubblico a pagamento. Due in particolare sono le variazioni. Il parcheggio Alsarca, zona hotel Piccolo Mondo, che conta circa 70 stalli, potrà avere 50 posteggi completamente liberi, gli altri 20 regolati da disco orario. La seconda novità è quella relativa all'installazione di nuovi parcometri che consentiranno agli automobilisti di utilizzare per il pagamento del ticket anche il bancomat, la carta di credito e lo smartphone. Quanto agli altri parcheggi rimarrà tutto invariato. Il panorama rimarrà un'area di sosta a pagamento con una tariffa oraria di 1 euro, così come i 114 stalli del parcheggio Conca d'Oro con una tariffa oraria di 1,50 euro. Tutte le aree interessate torneranno ad essere a pagamento dal 15 marzo fino al 15 novembre e i residenti del comune di Nago Torbole potranno continuare ad usufruire degli abbonamenti stagionali agevolati. I parcheggi nel 2016 hanno complessivamente garantito alle casse comunali un'entrata pari a circa 504 mila euro.